Buon salve gente buon salve, come va? Spero tutto bene, io tutto bene. Sono qui oggi per un video meno impegnato del solito, ultimamente stiamo facendo solo analisi, stiamo parlando di discorsi più ampi, stiamo trattando casi editoriali e quindi mi sembra giusto fare un passo indietro e riuscire a parlarvi finalmente di quelle che sono state le mie letture durante il periodo, perché sapete che ci sono delle letture che faccio appositamente per fare determinati video, altre magari che mi servono per la scrittura, e poi ci sono un po' le letture che mi rimangono tra cose belle che vedo online, uscite e anche libri che voglio leggere personalmente. Quindi adesso vi racconto tutto, ma subito dopo la sigla. Tutti i libri che vi presento in realtà sono stati letti a ottobre fino più o meno a inizio novembre e voglio partire con uno dei primi in assoluto, ovvero The Ruins, che è il libro in inglese di rovine, un testo di Scott Smith che farete molta fatica a trovare in italiano e in fondo non penso che dobbiate trovarlo in italiano perché la traduzione è un po' quella che è, non è terribile però a me non è piaciuta particolarmente ed è un testo che mi ha consigliato un amico perché mi ha detto che è uno degli horror che King aveva elogiato di più, infatti anche nella copertina dice The Best Horror Novel of the New Century, un horror molto molto interessante e io avevo proprio voglia di horror, quindi perché no? Quindi inizialmente lo cerco in italiano, mi arriva attraverso la biblioteca, a questo proposito se lo volete in italiano credo che sia l'unico modo per recuperarlo, cercarlo online, magari in qualche mercatino oppure andare direttamente in biblioteca. Mi arriva la traduzione, non è delle migliori nel senso che non è male male come certe traduzioni che sono illegibili ma vedevo che mi interessava anche l'aspetto linguistico quindi decido di acquistarlo in inglese. A questo proposito se non sapete se può fare per voi il livello di inglese di questo testo è abbastanza medio, nel senso se siete in grado di guardare film o serie tv in inglese sono abbastanza sicura che riuscirete ad affrontare anche questo testo. L'ho miniato come potete vedere, l'ho tutto annotato e magari un giorno vi faccio un video sulle annotazioni perché volevo interessarmi ad alcuni aspetti specifici. La storia è molto semplice, un gruppo di persone va in vacanza in Messico e in Messico trova altre persone, quindi si forma una sorta di compagnia che è formata da questa doppia coppia di americani, più tre greci se non sbaglio che però non parlano né spagnolo perché la vacanza è in Messico né inglese, quindi si capiscono più o meno a gesti e poi trovano questo ragazzo che a sua volta è in vacanza in Messico con il fratello. Il fratello è sparito, nel senso che ha lasciato un biglietto dicendo che seguiva questa ragazza che aveva incontrato anche lui in vacanza e che era un archeologa, comunque doveva collaborare con un sito archeologico nel mezzo della foresta in cui si diceva ci fossero delle rovine, quindi c'era un caso interessante a livello archeologico. Il fratello di questo personaggio decide di andare a cercarla, lei gli aveva lasciato una mappa e a questo proposito direi non seguite gente in vacanza in posti strani, soprattutto se vi dice di andare nella giungla perché l'effetto insomma è un po' tragico. Segue infatti questa mappa e sparisce, questo personaggio va avanti e dice vabbè mio fratello tornerà, ma i giorni passano e non torna, così questo manipolo di persone, uno dei greci, la doppia coppia e questo personaggio decidono di andare un attimo a vedere dove si è andato a imboscare il fratello, imboscare la parola giusta perché stanno andando proprio nella foresta e quindi inizia questo viaggio della speranza dove vedono dei panorami pittoreschi e poi arrivano attraverso un taxi in una zona che viene considerata insomma una zona non troppo sicura nel folto dei boschi e il tassista sostanzialmente gli dice di non andarci ma loro vogliono comunque proseguire e quindi li molla lì. Il problema poi diventa tornare indietro perché oggettivamente nel mezzo dei boschi trovare un autobus o un taxi insomma non è semplicissimo. Quindi questo gruppo di persone decide di cercare una forma di vita nella foresta per vedere se riescono a trovare un telefono, insomma un modo per comunicare anche solo con l'hotel. Tenendo presente che dei tre greci che vi dicevo solo uno è andato effettivamente in questo viaggio mentre gli altri due sono stati avvisati con un biglietto dove sta andando il gruppo. Loro fanno un giro come sta facendo questa mosca che mi sta veramente togliendo la salita mentale, smettila! Quindi si inoltrano nella foresta e cercano un villaggio, lo troveranno dopo un po' e troveranno un villaggio molto povero, molto decadente, insomma siamo all'interno di una zona che diciamo è presa dalla povertà e è nel bel mezzo della foresta. Si può parlare forse di indigeni, trovano delle scene che per persone che vengono da un altro stile di vita sono molto strane e a tratti anche inquietanti e l'autore fa il suo meglio proprio per dipingere questa via macabra verso questo giro che stanno facendo nei boschi. Non cavano un ragno dal buco perché queste persone non parlano la loro lingua e volendo li ignorano pure. Quindi decidono di andare avanti verso un posto in cui sostanzialmente ci dovrebbe essere l'accampamento di questi archeologi. Trovano queste piante messe in una strana posizione, cioè sembrano essere messe apposta per coprire un passaggio. E quindi che cosa fai? Non ci vai dentro? Ma certo, ma certo! Qualcuno ha fatto di tutto per nascondere questo ingresso e tu cosa fai? Ovviamente vai a esplorare. Che poi se avessero avuto tipo una videocamera eccetera capirei perché ci sono gli youtuber che fanno questa cosa, vanno tipo nelle case pericolanti a fare le esplorazioni, ma loro no. E loro ci vanno così, just for fun. A questo proposito ovviamente non hanno telefoni, insomma il solito gioco dell'horror. Vanno in questa radura e appena ci entrano arrivano tre figuri che facevano parte del villaggio e tra parentesi queste persone sono state seguite durante tutto il tragitto da un ragazzino, anzi due ragazzini in bici, che non hanno parlato con loro, non si sono avvicinati, ma nel momento in cui sono arrivati alla radura hanno poi probabilmente chiamato gli uomini che si piantano davanti a loro. Prima ne arriva uno che è super concitato, super agitato, sembra vogliergli dire qualcosa ma loro non capiscono. Poi arrivano questi altri due uomini e quindi loro vengono spinti dentro la radura in modo particolare verso una collina che nasconderà poi il core narrativo fondamentale di questa storia. È chiaramente un libro horror, è una vicenda che vuole dare una via molto classica, che ti fa pensare potrebbe esserci qualcosa nella foresta, potrebbero esserci delle entità maligne, qualcosa di paranormale, oppure potrebbe esserci la sola natura, diciamo, umana a complicare il gioco. Mi fermo qui perché in realtà vi ho già detto una parte dell'inizio, ma secondo me descrivere questo testo è un po' problematico perché tutta la vicenda avviene dopo questo più o meno lungo incipit, proprio perché si sta preparando la scena a qualcosa e se leggerete mai questo testo mi raccomando notate cose all'inizio, notate cose. Uno degli aspetti più belli secondo me di questo testo, al di là di come è gestito l'elemento negativo, che non voglio dire né paranormale né non per non darvi spoiler, però l'elemento negativo è molto interessante secondo me, non posso approfondire il discorso. Un altro bellissimo aspetto di questo libro è che i personaggi sono caratterizzati molto bene, i capitoli sono fatti dal punto di vista dei personaggi delle due coppie che vi dicevo e vengono inquadrate bene le loro personalità. Di conseguenza quando il gioco si fa duro e si deve davvero iniziare a capire cosa sta succedendo perché altrimenti si muore, riusciamo perfettamente a incastrare gli atti giusti o sbagliati all'interno della loro personalità. Quindi questa immersione all'interno della psicologia dei personaggi credo che sia l'elemento più interessante. Ovviamente anche da parte horror, ma se siete amanti dell'horror diciamo che la via è un po' riconoscibile. Ecco, io ho capito subito 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 qual era il problema, cosa ha innescato il tutto. Secondo me è molto tradizionale da questo punto di vista. È molto creepy, ha un'atmosfera molto spaventosa, molto ansiogena e questo è molto bello. C'è della violenza, in alcuni momenti c'è anche il ricorso diciamo al disgusto, non è un disgusto terribile però insomma siamo in quell'horror che vuole andare fino in fondo. non da turbarvi per il resto della vita, però abbastanza da farvi riflettere sul genere umano e su che cosa facciamo in momenti di difficoltà. E poi vabbè, c'è tutta la parte dell'elemento negativo, quindi della spiegazione che viene data che può dare volendo un sovralivello. Bello, 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 bello. È stata una lettura molto semplice. Io vorrei horror come questi tipo una settimana. Cioè vorrei poter prendere dal mio comodino, dalla pila, un horror di questo genere che non è il più innovativo del mondo, anche se consideriamo che è piuttosto vecchio, quindi era molto più innovativo nel suo periodo d'uscita. Però mi piacerebbe avere queste storie che non puntano essere i più grandi fari nell'horror, ma intrattengono e danno una trama interessante e sono scritti bene. Possibilmente anche autoconclusivi. Quindi bello, bello. Ve lo consiglio e ve lo consiglio in inglese perché è particolarmente semplice ed è molto apprezzabile. In più costa molto meno rispetto che a reperire quell'italiano, che non solo non lo trovate, ma questo è un paperback. Credo di averlo pagato tipo in sconto 12 euro, per cui consigliato. Andiamo avanti con la setta delle ciambelle. Anche qui un po' annotato, ma un po' meno. Joe R. Lansdale. Non riesco mai a pronunciarlo. Dovete sapere che io e questo autore abbiamo un problema. Io l'ho conosciuto con l'antologia Non aprite quella morta. Un'antologia che lui ha fatto insieme alla figlia. Mi sono annoiata mortalmente. Quindi non aprite quella morta perché quella morta probabilmente sono io. Una cozzaglia di racconti vecchio stile con il suo stile, che poi, dopo vi spiego meglio, ho imparato a conoscere con questo e imparerò meglio attraverso la lettura di altri suoi testi proprio per approfondire. Secondo me il suo stile non si sposa bene nella versione corta. A differenza di King, che per esempio io non lo apprezzo quando inizia a buttare fuori un sacco di pagine, ma nei racconti mi piace sempre molto. Nel suo caso specifico trovavo dei racconti comunque molto scontati, molto vecchio stile, con una scrittura strana. Riuscivo paradossalmente ad apprezzare più quelli della figlia, che comunque non mi sembravano niente di che. E ci sono rimasta molto male, perché il gioco di parole Non aprite quella morta a me dava l'idea di un testo molto interessante, o anzi di un'antologia di racconti magari anche un po' spiritosa, che ha uno stile anche un po' brillante, al limite del comico. E quindi ho detto, ok, non lo voglio più leggere. Poi un paio di amici mi hanno detto, ma guarda che Lensdale a te piacerebbe un sacco, perché è strano, è pazzo, ha uno stile particolare, ha delle storie proprio originali, creative, curiose, no? E io mi sono detta, boh, cioè nel senso, come mai? Cos'è successo? E quindi mi sono buttata a seguire i loro consigli. Mi hanno detto di comprare la trilogia di Drive-In, che è presente in un unico volume, e quindi ho detto, va bene. Però, in uscita, proprio in quei giorni, c'era la setta delle ciambelle, e quindi, contrariamente a ogni senso logico, ho deciso di partire dall'ultimo suo testo. Questo testo parla di un uomo che vede arrivare la sua ex moglie a un orario veramente tardo di notte, e questa sua ex moglie gli fa un discorso un po' strano. Si sente in pericolo, non sa bene cosa sta succedendo, insomma, un discorso che lo mette in allarme. E poi gli fa delle strane rivelazioni, tipo, attento alla collina, non mangiare le uova, cioè cose del genere. Però, dopo un po', non si vede più. Lei non si vede più, e non si vede più neanche la sua macchina. Quindi lui pensa, forse l'ho sognato. Però, stringendo la coperta dove lei si era seduta, sente ancora il suo odore. Quindi lui dice, è un sogno rivelatore? L'ho vista davvero? È un fantasma? Cos'è successo? E quindi inizia a indagare su quello che è successo alla sua ex moglie, che nel frattempo si è risposata, e lavorava in una specie di posto, dove, un franchise, ecco, dove vendono ciambelle giù in città. È un posto un po' particolare, perché è un franchise che viene detenuto da una corporation. Dico particolare perché non voglio fare troppi spoiler. Come vedete, il libro è molto breve, e quindi non voglio spiegarvi troppo, anche se, diciamo che, dai primissimi capitoli, capite dove sta andando a parare, perché non vuole mantenere il mistero su questo. Viene chiamata la setta delle ciambelle proprio perché la corporation che gestisce questi negozi è legata a un certo culto. Il culto di un UFO che sarebbe nascosto sotto una collina, e quindi insomma c'è questo misticismo misto a capitalismo. Sentite che bella commistione, misticismo e capitalismo, ed è già TSO. Iniziano a cercarla, ma la donna non si trova, e quindi vanno a casa sua dove lei dovrebbe risiedere insieme al marito. Il problema è che la trovano vuota, e ancora più strano, la trovano vuota, ma con le cose negli scatoloni come se si stessero per trasferire. Quindi lei e suo marito sono spariti, ma la casa è imballata di scatoloni. Quindi chi è che aiuterà il protagonista a capire insomma qualcosa della sorte della sua ex moglie, capire se è pazzo o meno? Ovviamente il fratello, che è un ex psicologo, diventato poi detective. Anche il protagonista a sua volta era un detective e adesso uno scrittore. E poi insieme al fratello ci sarà anche la compagna del fratello ed altri personaggi che si aggiungeranno all'interno del viaggio. Le indagini conducono a un gruppo di uomini alla Men in Black. Le indagini della sparizione di Meg, l'ex moglie. E' un testo un po' particolare, perché secondo me Lansdale, da quello che ho capito da questo libro, è molto sopra le righe. E' una storia interessante che ti restituisce il contesto rurale e che non ha filtri, quindi è molto anche grezzo da certi punti di vista e ha dei personaggi molto strani, ma dei personaggi anche molto concreti. E c'è questa storia sopra le righe di questo assetto di UFO, no? E tu vuoi capire, ma quindi ci sono gli UFO, non ci sono, ma quindi lui l'ha vista o meno la moglie. E questi espedienti che prendono dal fantastico sono un ottimo traino per la curiosità. Faccio un po' più fatica a star dietro al suo stile. Paradossalmente, la sua idea di storia particolare mi piace, perché mi piacciono queste cose un po' originali, ma lo stile molto terra-terra, molto solido, molto concreto, insomma, non mi è piaciuto in tutto il libro. Diciamo che ho fatto un po' fatica. E' quel genere di storia strana, stramba se volete, che è molto intrattenente ed è artisticamente interessante, ma che dovete voler seguire. Cioè, se voi dovete analizzare la storia col bisturi, tante cose sembrano un po' troppo sopra le righe per funzionare, ma ha quell'aura di stramberia che ti fa dire sì, ma la storia è fatta così. Quindi io l'ho apprezzato. L'ho apprezzato perché è molto breve, quindi anche la dimensione giusta è interessante. Se riuscite a farlo fuori in poco tempo, è una storia che vi intrattiene. Vi intrattiene, è curiosa, vi risponde a tutte le domande che pone all'inizio, risponde a tutti i quesiti curiosi di questa vicenda e quindi sì, a me questo testo è piaciuto. Non è piaciuto da dire che ora ho il mio autore preferito tra le mani o che voglio recuperare assolutamente tutta la sua produzione, ma mi è piaciuto abbastanza da dire voglio davvero approfondirlo perché mi hanno detto che in altri testi più antichi l'autore ha un coraggio molto forte a livello proprio di storia stramba, storia curiosa e quindi insomma è anche molto simbolico. Vediamo, io vi dico che questa è stata un'ottima lettura, sarei indecisa se dargli tra o quattro stelle, not my cup of tea, però oggettivamente carino, anche molto divertente da certi punti di vista, quindi molto piacevole, ve lo consiglio. E poi, scusate, quante figa questa copertina? Io non lo so, secondo me chi ha fatto questa copertina è un genio perché a me mi ha preso anche solo quella. Andiamo avanti con l'idea di intrattenimento e vi porto Survive the Night. Allora, Survive the Night Time Crime di Fanucci è una collana che io tendo ad acquistare volentieri perché è una collana che non mi dà delle storie incredibili, quasi mai, cioè non mi ricordo neanche una delle storie di Time Crime che mi ha fatto dire wow, tra i miei preferiti dell'anno, però è una collana che mi dà sempre la giusta dose di intrattenimento, la storia intrattenente ma anche magari un po' strana, un po' curiosa diciamo che è una buona media, è quella storia con cui sono sicura di poter passare due o tre ore staccando il cervello e quindi sfruttando al massimo l'evasione. In questo caso mi piaceva tantissimo la copertina anche qua, quindi sì, io assolutamente bimba da se è bella la copertina gli do una possibilità. Sopravvivi alla notte perché? Perché la storia di una ragazza che all'interno del campus dove ha risieduto per diverso tempo ha visto succedere dei fatti macabri o quantomeno è stata coinvolta nell'ultimo. Infatti si dice che ci sia un serial killer che uccide le studentesse ed è una cosa che succede da tantissimi anni. L'ultima studentessa uccisa è stata la sua migliore amica e la protagonista ha un qualche grado di coinvolgimento. All'inizio non sappiamo qual è il suo ruolo però poi piano piano veniamo a scoprire. Lei quindi decide che è troppo, la situazione è troppo pesante e quindi vuole andarsene. voi direte perché è pericoloso vorrei poter dire che è così intelligente ma è un personaggio strano è uno di quei personaggi che non puoi definire stupido più che altro definisce strano quel strano poco inerente a rimanere in vita no? Poco adatto a vivere ma non proprio stupido la sua dimensione psicologica è secondo me più importante poi effettivamente di quello che fa a livello d'azione. Una persona che ha sicuramente avuto una vita complessa i suoi genitori sono morti in un incidente so che voi state pensando questa cosa è super basic Giulia cioè la ragazza impressionata psicologicamente per la morte dei genitori no? È un po' diversa qua la storia. Una persona ossessionata dal cinema dal mio punto di vista di cinema non ne capisce niente scusate ho bisogno di mettere questa cosa sul tavolo ma è esattamente come quelle persone che dicono di saperne di letteratura citando Baudelaire io non mi fido non mi fido di voi se citate solo Baudelaire cioè Baudelaire è quella scelta per fare radical chic quindi non mi fido e lei fa praticamente solo dei grandissimi nomi come Hitchcock eccetera nella mia esperienza chi parla solo unicamente di capolavori e lo fa così con frasi molto banali tendenzialmente non ha capito quello che ha visto però è la mia idea change my mind comunque lei è una persona grandemente amante del cinema e questa cosa è importante fidatevi voi direte ma quindi aspettate perché questi sono tutti i dettagli fondamentali lei sale all'interno di questa macchina con chi con un tizio a caso conosciuto in Ateneo cioè ha senso c'è un serial killer che uccide la gente chissà chi è escono tutti questi volantini con scritto mi raccomando state attente bla 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 e questa decide di mettere un messaggio su una bacheca per cercare un passaggio verso casa dal primo che passa quindi sicuramente lei non è molto attaccata al ragionamento razionale logico e all'esistenza stessa entra a prendere questo viaggio con questo ragazzo che conosce appunto grazie a questo volantino lui si propone di portarla fino a casa sua perché il tragitto che devono fare per tornare a casa è più o meno lo stesso e quindi lei sale in macchina il punto è che non si può sapere chi è lui e questa cosa che a me per esempio è venuta in mente da subito cioè già io non avrei messo il volantino a lei viene in mente però ha tutta una serie di stratagemmi per dire ma dai ma sarà una persona normale ma vuoi che prenda proprio il serial killer in macchina cioè ma vuoi ma no ma stai scherzando la storia è questa siamo sicuri che questo è il ragazzo che dice di essere o è il serial killer o comunque anche se non è il serial killer è una persona affidata perché lei è in una macchina con questo da sola fino a che arriverà a casa sua e fanno anche delle strade insomma un po' secondarie la paura che hai per la protagonista è che sia salita in macchina con una persona inaffidabile inaffidabile per dire poco se non un serial killer o una persona problematica chi lo sa questo libro è stranissimo perché da una parte non l'ho sopportato a un certo punto io ne parlavo con un paio di persone su discord e dicevo io non lo sto capendo sto libro cioè è talmente tanto al limite del razionale quello che fa lei che non ha senso tra l'altro mi ero segnata un paio di possibilità per risolvere questa trama perché io lo faccio sempre all'inizio cercare di chiedermi di indovinare a pie pari chi avrei scelto come nemico per poi vedere se nel testo riesco a giustificare la mia tesi o se ne trovo un'altra è una cosa che mi piace molto narrativamente parlando e non ce l'ho fatta in questo testo che da una parte è bene perché vuol dire che non è prevedibile quindi insomma è interessante ma dall'altra non ce l'ho fatta perché è estremamente confuso questo libro e dice cose un po' a caso ci sono situazioni che accadono un po' a caso e ci sono delle cose che vengono scritte e poi rimangiate diciamo che ci sono degli espedienti interessanti alcuni hanno a che fare con la salute mentale e se da una parte sono interessanti nella storia dall'altra ancora una volta si rappresenta la salute mentale come se fosse un espediente narrativo invece che cercare in qualche modo di renderlo un elemento parte della narrazione e io ne so qualcosa perché in Zoffri tratto di salute mentale e so quanto è complesso renderlo effettivamente parte della narrazione non una scusa diciamo che non mi è piaciuto tantissimo l'utilizzo a livello etico però a livello narrativo ha un ritmo piuttosto interessante ci sono effettivamente un paio di momenti in cui ti viene quel momento di ok quindi ora cosa succede per cui mi stava dando la mia intrattenenza e poi è arrivato il finale il finale è una catastrofe per me c'è stato un momento in cui ho detto eh se l'inizio del testo mi ha fatto dubitare il centro e fino quasi alla fine mi hanno fatto dire dai ok ci siamo interessante il finale è stata una mazzata perché trovo che tante cose quadrino perché effettivamente hanno voluto dargli una fine ma non hanno proprio un senso incredibile sembra quasi di tornare indietro e vedere Lansdale solo che non è Lansdale è tipo un testo strano la sua intrattenenza l'ha fatta sì sì assolutamente per cui lo rileggerei lo rileggerei credo di sì però comunque rimarrei male del finale perché il finale mi ha fatto dire ci credo che non ho potuto prevedere perché tipo non ha molto senso questa cosa per cui ve lo consiglio sì ma moderatamente cioè tipo lettura da ombrellone tra l'altro questo autore eccolo qui Riley Sager è lo stesso autore che ha scritto un altro libro su una casa infestata che secondo me è di gran lunga superiore non mi ricordo il titolo però ha scritto un altro libro sempre uscito per fanucci come casa infestata mi ricordo casa prima di sera una cosa del genere potrebbe essere una cosa così comunque vi lascio in descrizione il link dei libri e se riesco vi metto anche quello di questo libro qui e quest'altro libro a me era piaciuto molto di più rispetto a questo cioè mi sembra proprio un altro mondo mi ritrovo nel fatto che ancora una volta mi abbia deluso il finale perché mi aveva deluso anche nell'altro libro però lì secondo me era una questione molto di gusti cioè non è che era poco credibile è che io ho trovato un po' un po' banale e avrei preferito un'altra cosa qui non ha senso secondo me il finale cioè è un po' diverso però apprezzo il fatto che quest'autore riesca a scrivere libri così diversi perché normalmente chi scrive di case infestate o di quel genere d'horror si specializza in quel genere d'horror invece qua abbiamo una sorta di horror thriller consigliato come lettura ad ombrellone anche se siamo a novembre non ve l'ho specificato ma tutti i libri di cui vi ho parlato finora sono paghet by me cioè acquistati da me ora invece vi parlo di un libro che mi è stato inviato ma che attendevo molto perché è l'esordio di Passione Retorica ovvero il tredicesimo nome di Giorgia D'Aversa mi è stato mandato da lei e da Acheron che ringrazio e voglio sottolinearvi l'importanza di recensire per quanto riguarda soprattutto autori e autrici italiane perché è molto importante sostenerli dal momento che appunto le recensioni sono un ottimo passaparola quindi parlatene sui social ma ricordatevi di lasciare anche la recensione su Amazon su Goodreads io infatti l'ho fatto proprio in questi giorni sono in uno spaventoso ritardo e di questo mi scuso ma sto avendo delle difficoltà a organizzare le letture e sono riuscita finalmente alla fine di ottobre inizio novembre a leggere il romanzo di Giorgia quindi cosa ne penso allora da marketing del testo dicevano che era una storia molto character driven quindi molto basata sulla storia dei personaggi una storia che non aveva i soliti enemies to lovers ma anzi lovers to enemies che è un troppo molto particolare che a me piace sempre molto e quindi si presentava come un testo fantasy un po' più oscuro di quello che a cui siamo abituati e la vicenda aveva questa atmosfera molto antica da impero romano da gallia insomma quindi io queste erano le premesse che avevo quando ho iniziato il testo la storia è quella di Clizia e Verdiana che sono due sacerdotesse della nome tutelare della città di Mezio ecco scusate i nomi li devo guardare perché io con i nomi sono pessima e sono tutte e due due sacerdotesse di Desteria che è la nome che protegge questa città una nome che è legata alla natura è legata alle benedizioni dei raccolti eccetera e sono due personaggi che sono un po' complementari ma soprattutto sono molto diverse entrambe sono legate alla città di Mezio come vi dicevo da legami familiari con le più alte cariche ma diciamo che il loro percorso e la loro vicissitudine familiare è molto diversa Verdiana ha un'opposizione molto più forte mentre Clizia è un personaggio molto più vicino alla sua famiglia comunque al di là di tutto loro sono sacerdotesse vivono insieme alle loro compagne l'arrivo di tutta una serie di presagi oscuri e terribili che vanno proprio da un rito propiziatorio che non funziona lasciando Clizia ferita e con delle spaventose visioni che tra l'altro aveva già iniziato ad avere anche prima e tra l'altro anche con una difficoltà per quanto riguarda i raccolti e questo sappiamo che in tempi antichi era un problema molto grave infatti si facevano tantissimi riti che Giorgia ha sicuramente studiato e riportato in questo testo infatti l'aspetto sacrale se vogliamo l'aspetto dei riti l'aspetto della religione quindi del potere che hanno queste sacerdotesse che è connesso con la loro natura di figura legata al divino è la parte che secondo me è più interessante e mi è piaciuta di più mi dispiace solo che quella fosse la parte più approfondita e si vede che Giorgia ha fatto un sacco di ricerche ma a livello di world building invece abbiamo un po' meno quando i presenti degli elementi così interessanti è scontato che il pubblico ne voglia di più quindi io a me è dispiaciuto vedere che ci fosse tantissimissimo approfondimento in questo genere di scene però magari quando si parlava dei numi o quando si parlava del world building ce n'era un po' meno anche per la scelta di fare una storia character driven però vabbè questa è una mia opinione delle due protagoniste del declino della società perché poi alla fine questa è una storia che parla di donne parla di famiglia parla dei rapporti che si costruiscono anche quando si hanno degli intenti comuni o delle credenze comuni si parla del oltrepassare i limiti quello che faremmo davanti a una disgrazia o davanti a una difficoltà quindi si parla proprio della natura cruda dell'essere umano si parla della dimensione della donna in una società che gli avversa quindi tutte delle tematiche estremamente attuali e interessanti delle due personaggi principali quella con cui ho legato di più è sicuramente Verdiana perché la trovo veramente interessante profonda trovo un personaggio solido un personaggio che ha un arco di trasformazione molto profondo che va da una prima messa in discussione fino a una discesa in questa tana del bianconiglio proprio perché è in una trasformazione che la porta a cercare di capire cosa in cosa crede cercare di capire anche le persone che possono essere fidate per lei e diciamo che il mondo le sembra un posto molto più oscuro di quanto sembra invece a Clizia Clizia fa un po' più fatica secondo me a comprendere determinate situazioni o quantomeno il percorso di Clizia è più lento e forse il problema per cui io non ho legato con Clizia è proprio perché se la vicino a Verdiana non ha la stessa profondità e quindi finisce per interessarmi di meno invece Verdiana mi piace perché va fino in fondo anche nell'oscurità va fino in fondo per seguire quello in cui crede stabilire se sono o meno personaggi buoni cattivi eccetera lo lascio a voi anche perché non voglio fare spoiler però diciamo che tra i due personaggi Verdiana è quella che mi convince di più anche tenendo presente quella che è stata la storia che è stata costruita Clizia non so forse perché da un certo punto di vista è più buona e Verdiana è più disillusa mentre Clizia ancora sta cercando di capire la realtà intorno a sé e mettere insieme tutti i tasselli nella dolorosa storia di Verdiana i tasselli sono già stati composti prima e lei ha preso atto della situazione mentre Clizia deve scoprire anche tante cose e soprattutto secondo me lei non è abituata a essere sotto i riflettori come succederà in questo testo perché paradossalmente il personaggio che ha un cambiamento a livello proprio di storia quindi che viene coinvolta di più dai fatti sembra proprio essere Clizia di cui ha apprezzo tantissimo il cagnolone comunque quello gli ho voluto tanto bene l'ho trovata un pochino più difficile per me da empatizzare è un percorso comunque doloroso anche quello di Clizia che la porterà a cercare di comprendere anche lei di chi si può fidare comprendere anche la dimensione dell'affetto che prova nei confronti di Verdiana è una storia che come abbiamo detto prima from lovers to enemies quindi c'è comunque un sottofondo di amore affetto che deve essere meglio compreso all'interno del testo e poi una degenerazione che davvero apprezzo molto di più della solita storia enemies to lovers perché spesso gli enemies non sono davvero enemies e quindi insomma la trovo sempre poco interessante quindi ha utilizzato sicuramente una scelta di tematiche che a me piacciono molto ha utilizzato anche dei personaggi che sono molto diversi l'uno dall'altro e credo che questo volersi concentrare su di loro sia una scelta vincente la prima parte del romanzo per me è più lenta rispetto alla seconda e ho fatto maggiormente fatica a seguirla questo perché forse non sono abituata al tipo di tecnica credo sia la scrittura immersiva che ho utilizzato Giorgia io purtroppo faccio veramente fatica la maggior parte delle volte a seguire questa tecnica perché ha tanti dettagli tende a cercare di togliere la parte del narratore cercare di far immergere il più possibile all'interno della storia il lettore e paradossalmente a me fa un effetto opposto perché ci sono sempre tantissimi dettagli che mi fanno perdere il focus di concentrazione detto questo però non è stato illeggibile sono stato un po' più complessa la prima parte e dalla seconda in poi invece il ritmo è molto più scandito e la scrittura l'ho trovata anche molto più solida e molto più interessante quindi la seconda parte è sicuramente la parte che apprezzo di più la prima parte mi ha messa un po' in difficoltà ma la tematica e il tipo di storia che si intravede con questi presaggi oscuri appunto con questa crudezza che minaccia questa storia comunque è un appeal la curiosità molto forte per cui sono contenta di averlo letto e non vedo l'ora che Georgia scriva altro e che non si faccia buttare giù dalle recensioni negative perché assolutamente non deve farlo andiamo avanti con Notturno Dark Taze la serie gotica della British Library Notturno è un libro con una copertina fighissima partiamo da questo presupposto perché è oggettivo che è così guardate che bello in questo video ci sono quasi solo copertine bellissime Notturno è una raccolta di racconti gotica molti dicono basarsi più che sul gotico sul paranormale in realtà io vedo la linea di connessione tra i vari racconti a livello proprio gotico perché l'atmosfera poi è quella però in effetti sì il focus fondamentale è il paranormale l'ho apprezzata molto un po' perché costa 12,90 euro quindi non costa davvero niente le raccolte di racconti spesso non hanno un prezzo enorme però rischiano di avere sempre gli stessi racconti cioè racconti degli autori più noti e quindi finisci per prenderne qualcuno e poi smetterne di comprare perché se no compri sempre gli stessi racconti magari in una antologia di 15 racconti ne trovi due o tre nuovi e tutti gli altri li hai già letti che è una cosa che non sopporto quindi normalmente appunto la mia casa del non cuore per il gotico è abeditore e di solito non mi addentro oltre cioè io vado da Abe prendo lì e poi guardo giusto l'esterno e vedo se c'è qualcosa che può essere interessante ma non compro quasi mai in questo caso mi sono sentita di comprarlo anche perché mi era stato detto che i racconti all'interno è un po' più difficile trovarli perché sono racconti minori ma comunque molto interessanti quindi non sono grandissimi nomi è stato molto intrattenente nessun racconto mi ha fatto pensare wow questo mi mancava assolutamente però mi mancavano praticamente tutti e sono state idee raccolti molto interessanti e a questo proposito vi ricordo che il gotico ha questa doppia sfumatura può non fare paura per niente un certo tipo di pubblico che magari è spaventato dall'horror oppure può davvero inquietare tanto un altro tipo di pubblico tipo me il gotico fa particolarmente effetto perché si basa molto sulla costruzione dell'atmosfera io posso dirvi che queste storie secondo me sono adatte anche ai fifoni quindi se non siete super amanti dell'horror questo comunque è un insieme di storielle che al limite vi daranno i brividi e che io ho letto in pochissimo tempo perché sono anche molto scorrevoli quindi approvato so che è uscito il secondo volume della collana proverò a sentire la casitrice se possiamo collaborare perché andrai anche avanti se no eventualmente lo acquisterò e ve ne parlerò prossimamente ultimo ma non per importanza beh sì in realtà sì ultimo per perché l'importanza non era quella che vabbè dai insomma abbiamo capito comunque ultimo i fantasmi di Ashburn House che anche questo viene da Fanucci non è time crime però è proprio la classica forma dei racconti horror di Fanucci allora l'ho acquistato nonostante tutte le persone che conoscevo mi avessero detto di non farlo di non farlo perché non mi sarebbe piaciuto però la copertina recita la regina delle atmosfere horror arriva con una nuova storia di intrigo mistero e paura che sono io per dirle di no ma sua maestà ma entri quindi ho deciso di darle una possibilità per poi dare ragione praticamente alle persone che me l'hanno sconsigliato allora non è una brutta storia sia chiaro né è una storia scritta male è una storia molto rapida che non si perde che va dall'inizio alla fine che tra l'altro si svolge in pochi giorni e parla del solito trope della ragazza che si è trasferita in una casa dove ci sono delle scritte strane dove ci sono delle situazioni strane ci sono dei rumori fuori la casa è nel bosco insomma da quella creepiness lì lei ottiene questa casa perché sua zia gliela lascia e la casa è ai limiti di una cittadina i limiti non voglio approfondirli perché io di fisica ne capisco poco ma ne capisco abbastanza per riuscire a dirvi che se la strada principale perché tutto questo è scritto nel libro ci vuole tipo un'ora per arrivare al paesino dalla casa alla strada principale ma tagliando tra i boschi ci vuole un quarto d'ora ecco non funziona così cioè a livello fisico spaziale ne capisco abbastanza per comprendere che i dettagli non sono al massimo di questo testo quindi le domande è meglio non porsele però è interessante perché comunque ripercorre proprio quel genere di storia di casa infestata dove c'è qualcosa di strano e c'è dietro una torbida e lunga storia familiare non è particolarmente complesso gioca anche su quelle che sono un po' le meccaniche base di queste storie per cui è un'ottima lettura di intrattenimento la lettura d'ombrellone di cui vi parlavo prima l'unica cosa che mi dispiace è che questo è un libro che io me ne sono scordata tipo il secondo giorno in cui l'ho letto perché non lascia davvero niente cioè non non trovo niente di davvero interessante dentro il testo è un copycat di tutto questo genere di storie della casa infestata e non ha quell'elemento in più che ogni tanto cerchiamo magari nella storia familiare magari all'interno delle vicende torbide della protagonista in questo caso quella che è una donna non c'è non brilla non brilla mi sembra proprio super tradizionale mi sa di compitino fatto bene e quindi me ne sono dimenticata alla svelta è una storia comunque che parla di questa ragazza che si trasferisce in questa casa ha lasciato dalla zia e la zia ha lasciato in giro per casa tutta una serie di strane scritte incise in giro tra cui ogni venerdì sera accendi la candela quindi sembra che ci sia una sorta di regolamento per vivere in questa casa ci sono anche dei boschi strani dove ci sono anche tipo delle tombe posto non proprio fantastico ecco capisco perché avrebbe fatto fatica a venderle e ha deciso di andarci a vivere io forse non lo so se lo avrei fatto no vabbè io sì cioè una casa gratis chi la rifiuta altro che fantasmi cioè ci vuole molto di più per spaventarmi se è gratis non mi spaventa niente però diciamo che appunto le vicende si intrecciano col fatto che in paese conoscevano la zia e la vedevano come un personaggio strano e tutto ciò ovviamente è legato a un contesto familiare perché vogliono capire appunto quello che è successo proprio perché all'interno di questa casa si è compiuto un omicidio abbastanza cruento ma è sempre così in questo genere di storie ci sono appunto dei collegamenti con l'esterno in paese scopre delle cose quindi poi si va molto rapidamente se non sbaglio succede in una settimana tipo quindi in pochissimo alla conclusione della storia non lo so vale sicuramente i soldi spesi perché se non ne avete letti tanti di di questo genere di storie secondo me potrebbe interessarvi se ne avete letti tanti e volete continuare a leggerli potrebbe interessarvi se volete una lettura horror che vi dà quel brividino ma niente di che diciamo che è una lettura che costa anche 16 euro quindi non tantissimo e che vi terrà compagnia per un po' altra lettura da ombrellone a novembre e niente gente queste sono state le mie letture di ottobre inizio novembre non so quando riuscirò a farvi il video delle nuove letture perché sono rimasta un po' indietro mi sono un po' incasinata ma cerco di farvelo avere il prima possibile adesso mi sto concentrando su dei video sempre di analisi quindi tipologie un po' più complesse però insomma vedo che siamo riusciti a riprendere quasi un ritmo sensato su questo canale e ne sono molto contenta vi ho promesso che dall'inizio dell'anno prossimo riprenderò in mano meglio anche le programmazioni degli altri social e quindi sì sono anche un po' in ansia per questo però se volete rimanere aggiornati su quello che faccio dove, quando, come, perché vi ricordo che potete trovarmi su Instagram Giulia Bifrost e lì ci sono anche i collegamenti al mio canale Twitch TikTok insomma un po' a tutto trovate tutto in descrizione insieme anche al link di Zombie Friendly ci si vede all'inferno il mio romanzo che è uscito ormai un anno fa e vi ho fatto anche un video in proposito e niente gente se volete più video di questo genere fatemelo sapere fatemi sapere anche che cosa avete letto in questo periodo datemi dei consigli di lettura perché io ho tanti libri ma non ne ho mai troppi quindi ne posso sempre aggiungere e ditemi se anche stavolta vi ho rimpinguato la vostra wishlist come faccio ogni volta perché la prendo come una cosa personale cioè un vanto che voglio avere quindi lasciate like commentate condividete il video e mi raccomando iscrivetevi qui sotto c'è il tasto iscriviti e di fianco la campanellina che tanto è più facile vedere un fantasma che riuscire ad avere una notifica da youtube ma è gratis e ci proviamo lo stesso la notifica non il fantasma e niente belli grazie di essere stati con me fino alla fine di questo video ci vediamo al prossimo bye gente ciao 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 ciao